Iesolo. Un gruppo di turiste medio orientali che facevano shopping in burka per via Bafile è stato sufficiente a scatenare l'allarme tra commercianti e passanti che hanno allertato le forze dell'ordine. Gli agenti della polizia hanno verificato le generalità delle tre donne che avevano il volto coperto dal tradizionale islamico. La paura si è rivelata infondata. Dal controllo sono risultate essere tre turiste dell'Arabia Sudite in vacanza nella nostra regione.